Ciao a tutti calciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft ita In questo episodio andiamo a costruire una farm abbastanza particolare Perché è un po' strana come concetto L'ho trovata in giro per internet e mi è piaciuta Ed è una farm di cui ho bisogno Quindi sarà una cosa interessante Ma prima di iniziare volevo comunicarvi Che allora come molti di voi sapranno ormai Perché chi ci segue su Instagram, su Twitter comunque queste cose le sa Qualche settimana fa abbiamo terminato le riprese Del primo video del canale The Mates Che ormai ha raggiunto i 250.000 iscritti Quindi come promesso esce il primo video Sono cose un po' più particolari Con una produzione dietro Cioè ci sono delle idee un po' più complicate Rispetto ai soliti video che facciamo Quindi c'è voluto tanto tempo per farlo E uscirà domani alle 2 sul canale The Mates Che vi lascio in descrizione Così potete iscrivervi e domani potete andare a vedere il video È molto carino ed è ignorante ragazzi È uno dei video più ignoranti che io abbia mai fatto E penso di aver detto tanto Allora parliamo d'affari invece Parliamo della nostra farm che abbiamo costruito oggi È una farm di pecore Non tanto di pecore, è una farm di lana Che come sapete io non è che ho Quissà quanta quantità Che è una frase formulata malissimo per dire che io non ho lana C'è un po' di colorante di qua Però questa è tutta la lana che ho E l'unica farm tra virgolette Di pecore che io ho è la seguente Sono queste non so 12 pecore, 20 pecore Sono 3, 6, 9, 12, 15 Sono circa 20 pecore che io ho qui E che sono tutte bianche Non so di preciso come utilizzarle E voglio fare una farm di pecore più automatizzata Non per forza più efficiente perché effettivamente se uno sta lì Comunque è più efficiente un ammasso di pecore Però è una farm che diciamo permette anche l'utilizzo FK Quindi è interessante C'è una cosa da dire però Per fare questa farm avremo bisogno di un po' di pecorine Non 20 Avremo bisogno più o meno del doppio Di 40 pecore Quindi prendiamo un po' di grano e andiamo a farle riprodurre Tra l'altro per questione di comodità E potete immaginare qual è Faremo la farm di pecore lì vicino Cioè questa è l'idea Vediamo se trova uno spazio adatto Spero di sì Anche perché altrimenti La comodità sta proprio nel fatto che le pecore stavano là vicino Altrimenti io davvero non so come fare a portarle tutte lì Dovrei farle riprodurre poi all'interno della farm Ma non è così semplice Perché è una farm un po' non convenzionale Non è che si sviluppa in un quadrato, in un cubo Non lo so, in una cosa rettangola È una specie di parell'epipedo E con degli ascensori Ed è un po' strano È un po' strano ragazzi come farm Però è figa Fidatevi Partiamo dalle basi Per costruire questa farm avevo bisogno di Terra E terra nel senso terra Tipo questa qui con l'erbetta sopra Quindi forse avrò bisogno di un piccone con silk touch Per fortuna che ce l'ho Poi avevo bisogno di Vetro Per fortuna questo ne ho un po' Oltre al vetro Anche un glass pane tra l'altro Forse un paio di glass pane Anche un cobblestone wall Abbiamo bisogno anche di opere in realtà Perché tutta la lana non la possiamo tenere nell'inventario E acqua Queste sono le cose che ci servono Non servono pistoni E altre cose È abbastanza normale Tra virgolette Io però sono davvero curioso ragazzi Di vedere me stesso Portare queste pecore nella farm Non mi ci vedo proprio Perché Non so come fare ho paura Detto questo Se io facesse effettivamente la farm Proprio qui dietro Ho le pecore lì Le metto Metto la farm Qui così No qui così Non è neanche lunghissima Ne ho prima a dormire va Poi vediamo il da farsi A me preoccupa davvero questo aspetto Del trasportare le pecore Certo non sono villager Quindi non devi fare le rotaie Tutto quanto Però Però È sempre molto complicato L'ultima cosa che ci servono Sono delle scale Ma per fortuna ne abbiamo un po' di quelle E Visto che abbiamo qua Tutta la farmina Con tutte le pecorine Io direi ragazzi Facciamola davvero qui Liberiamo solo un attimo la zona Anzi Liberiamola con il piccone Così abbiamo già la terra per dopo Avrò bisogno più o meno Di una trentina di pezzi di terra Perché se usiamo la terra di base Anche qua Siamo messi abbastanza bene In totale si sarà più o meno uno stack di terra Con l'erbetta sopra Allora Iniziamo Abbiamo bisogno di uno spazio 3x10 Come base Quindi partiamo da questo blocco Perché qui poi dovevo metterci delle cose Quindi sono Uno Due Tre Questo dovrebbe essere l'undicesimo blocco Quindi io metto un blocco qui per Separare E dovremmo essere a posto Quindi sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Leviamo un blocco qui In realtà Dovremmo levarne di più Perché comunque poi ci andrà il vetro Le cose Qua ci mettiamo il cobblestone wall Centrale Perfetto Un po' di questi blocchi possiamo levarli In realtà perché non ci interessano Cerchiamo sempre di tenere Il mood della collinetta E dai Poi piazziamo dei blocchi Tipo tre blocchi E ci mettiamo sopra le scalette Che abbiamo preso prima Un, due, tre E qui Con un blocco di Svantaggio Tipo qui Faremo partire La seconda Ondata di terra Quindi lasciamo un blocco di distanza Piazziamo il nostro Tre per dieci Quindi andiamo avanti Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Nove E con il dieci Volemo arrivare sopra la cobblestone E lo rendiamo largo tre Questi sono tutti i blocchi di terra Di cui abbiamo bisogno Basta E voi mi starete credendo Suri Ma cosa stai facendo Cosa sta succedendo Cos'è sta farm Non vi preoccupate Ora invece con il vetro Andremo a creare Se ce la faccio Se non cado Per colpa dell'elitra Una specie di supporto Per la nostra farm Nel senso Allora piazzate tre pezzi di vetro Accanto alla scaletta E poi attorno A questa scaletta Bisogna fare una forma Tipo adu Che vada ad inglobare Questo blocchettino E la facciamo alta tre In questo modo Muy easy Qui ci andrà dell'acqua Qui ne approfittiamo Visto che abbiamo il glass pane Lo piazziamo Noo Errore Vabbè facciamo così Se riesco Dicevo se riesco A levare Non si leverà mai Vero Mettiamo della terra normale Tanto con tutta questa terra Accanto dovrebbe Risanare facilmente Mettiamo un glass pane Qui In questo modo Io potrei andare a mettere L'adventro dell'acqua Anzi qua metto un altro blocco Io metto dell'acqua lì Impedisco alle pecore Di andare di là E le porto ad andare di qua Che è quello che interessa a me Tanto si sta anche facendo notte Quindi io direi Piazziamo un po' di torce Qua accanto E andiamo a dormire Perché lavorare di notte Non me piazza Ora prima di continuare Come vedete ho già preparato l'acqua Ma avevo bisogno di un altro paio di cose Di un paio di sign Perché altrimenti l'acqua Poi va dappertutto E non è controllabile Ci fa casini inutili E poi anche di hopper Che purtroppo Non dovrei avere Ma che posso facilmente craftare Grazie al ferro Che abbiamo trovato Nello scorso episodio Ma però prendo i sign Nello zainetto Abbiamo anche delle ceste Quindi non dobbiamo Precare legno Abbiamo bisogno di tre ceste Per fare tre hopper E quindici pezzi Di ferro Ma davvero ragazzi Ma voglio dire ragazzi La parodi Chi? Cosa? Le ricette di Suri Non le batte nessuno Allora partiamo dal presupposto Che abbiamo bisogno di acqua E di un sign Perché qua non riesco più a salire Ovviamente Ma una pecora ci riesce Saliamo da di qua Tanto ce la facciamo Dovevo fare così Allora intanto Chiudiamo un po' I buchetti Facciamo che mettiamo Dell'altro Vetro di qui Il blocco si è riempito Per fortuna Limpiamo anche quest'altro Se io metto l'acqua qui Voglio che ci sia un blocco Qui In modo che io metto l'acqua E come vedete Vengo spinto Oh mio dio Vengo spinto Perfetto Però non vogliamo che l'acqua Arrivi sull'erba Perché le pecore Dovranno viaggiare Lungo questo corridoio E dovranno anche Mangiare Proprio l'erba Dovranno viaggiare E mangiare Fatto questo Possiamo ragionare un attimo Sul fatto che Visto che qui termina Il tutto Avemo bisogno di Tre opera Che metteremo Così E qua ci va Quindi la Doppia cesta Che per il momento Sono una doppia cesta Anche se potenzialmente Dopo potrebbe diventare Addirittura un sistema Di smistamento Incredibile Dove c'è una cesta Per ogni colore Che è un po' Reale Ora come ora Però potenzialmente In futuro potrebbe esserlo Facciamo una cosa di questo tipo Quindi Opera che punta nella cesta Opera che punta nell'oper E ultima opera Che punta nell'altro hopper Possiamo levare Questi qua Così L'erba torna al suo posto Ora in realtà Pensandoci Mi sa che me ne manca uno Di hopper Perché Le pecore Cadranno Qui Quindi io voglio Che ci sia un altro blocco Bisogna di un altro hopper Che andrà qua sopra Quindi questo sarà l'hopper E facciamo una cosa Attorno A questo Per creare il tunnelino Dove cadranno le pecore Cosa di questo tipo Considerando che comunque Ho bisogno dell'acqua Tipo qui Che vada avanti Sì Quindi allarghiamo un attimo Questa base Qua posso salire Perché non ci interessa Però qua posso poi levare questo E mettere altra acqua Ok sì così funziona Questo ricordiamoci che è un altro hopper Però Probabilmente serve anche per la raccolta Perché quando io vado a Cliccare con l'accesoia Magari la lana viene anche verso di me Altrimenti non viene presa dagli altri hopper Quelli in basso Comunque direi che possiamo iniziare A chiudere a chiudere un attimino il tutto Non sprechiamo il vetro Visto che non abbiamo tantissimo da parte Lascerò un paio di buchetti Ma no neanche Facciamola completa Poi le pecore queste vediamo dopo Come inserirle Anzi Ne approfitto E le faccio mangiare ancora Così arrivano al numero esatto Di cui ho bisogno io Poi almeno quella è l'idea Vai mangiate Mangiate Piccole bestioline Mangia 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 Mettiamo il contorno anche di qui Se ce la faccio Perfetto E quindi penso che piano piano Stiate iniziando a capire Qual è il ragionamento Detto questa farm Ora per capire bene il funzionamento Di questa farm Devo farvi vedere una cosa Se io premo F3 più B Sulla mia tastiera Posso vedere la hitbox Dei Delle pecore Cioè quanto sono alte Praticamente Vedete che sono alte Ben più di un blocco Sono alte un blocco e mezzo Queste qua piccoline Sono alte solamente Un blocco Anzi poco meno Però queste qua grandi Non riescono Se io metto semplicemente Un blocco di questo tipo Con un altro blocco sopra Non riescono a passare all'interno E andare dentro Come invece una pecora piccolina Potrebbe fare Ed è per questo che Quando siamo qua in cima Non ci serve neanche Chiudere del tutto La farm Ci basta fare una cosa di questo tipo Quindi lasciamo un blocco libero Tra l'erba E la Diciamo la chiusura Tra l'altro Prima di fare qualsiasi cosa Mi sono appena reso conto Di aver fatto Un blocco più corto del dovuto Che ho sbagliato a piazzare Gli hopper Perché qui dovrebbe esserci Uno spazio di due Non di uno Eh sì ho sbagliato Ci vuole mezzo secondo L'aggiusto un attimino Prendiamo tutti gli hopper Allora uno va di qua Questo va di qua E questo va di qua Ecco così funziona bene E quindi L'hopper extra Va qua sopra E quindi ho bisogno Di un blocco extra Qui 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 posso far così Questo lo chiudo Non mi interessa Allora se io faccio così In teoria dovrei riuscire Nel mio intento Perché da qui Prendo le pecore Poi passano avanti Io lì posso mettere l'acqua Qui posso mettere il mio sign Dove essere a posto Anzi Vi dirò di più Prendiamo anche l'acqua Abbiamo un laghetto qua vicino Boom E mettiamo l'acqua Se ce la faccio Lì Ora lasciate stare qui Non dovrebbe essere libero Perfetto Vuol dire che se c'è una Larga quantità Di pecore All'interno di questa struttura Ragazzi Dovrebbe Allora Leviamo prima cosa Le hitbox Sennò sembra di essere All'interno di matrix O di terminator O quelle robe là Quello che ci interessa Ragazzi E che ora le pecore Dovrebbero fare il giro Di tutta questa cosa E Io qui Con le cesoie Che ho nel mio zainetto Le posso Usare le pecore E invece Per il resto del percorso Mangeranno un po' di erbetta Quindi rifanno La lana Arrivano qui E io le toso di nuovo E quindi è un sistema Di generazione automatica Della lana delle pecore Che io poi vado a prelevare E potenzialmente Si può stare anche fk Perché io sono qui Con la cesoia premuta E io le prendo tutte E poi fai un meccanismo Di refill Della cesoia E sei a posto Cosa che non penso A me personalmente Servirà Però è una cosa Che si può fare Andiamo a creare Quest'ultimo hopper Così Possiamo Concludere Questa costruzione Prima di proseguire Piazzare l'hopper Già che ci siamo Vado a prendere anche una trapdoor Che dovrei avere qui Da qualche parte Perfetto Non ho giusto una Perché in quel blocchettino Ora è anche notte Quindi dobbiamo stare attenti Ai mob Spero non ci sia nessuno Nelle vicinanze Se io Allora levo questo Metto uno Per là sopra Dovrei evitare danni Di qualsiasi tipo E metto qui Una trapdoor Perché altrimenti C'è la possibilità Che qualche pecora Esca Spinta dalle altre Di solito Non dovrebbe succedere Però potrebbe Succedere Ti dirò di più Quasi quasi Io riempio anche questo Perché Non mi piace tantissimo Vederlo vuoto Ad esempio Qui metto del vetro Qui metto del vetro Qua metto una torcia Qui metto altro vetro Anzi Torniamo fin là sopra Ok Io andrei a dormire Perché ho una paura Tipo fottutissima Dei creeper In questo Ah o degli scheletri In questo momento Ciao signora strega Come va Tutto bene Signora strega Tutto bene Ah volevi avvelenarmi Volevi Cagna Perfetto ragazzi La farmà di realtà È completa Cioè è questa la farmà Manca solo la parte Interna Cioè le pecore Per farci entrare le pecore È un po' un casino Posso iniziare a prendere Delle fence E a costruire Una specie di percorso Che ci permetterà Di portarle lì E su me non sarebbe Una cattiva idea Non ne ho moltissime Ma possiamo utilizzare Quelle che abbiamo In ottimo modo Anche se molto probabilmente Ci troveremo In uno dei prossimi episodi Che l'avrò fatto Off camera Il ragionamento è che In teoria dovrebbero arrivare Tipo qua Certo 24 fence Sono pochissime Infatti Non so neanche Se riesco ad arrivare Fin qua Vediamo Queste che non ci servono Ridammela Oh raga forse ci arrivo Alla grande Vuol dire che io potenzialmente Posso fare così E l'unica cosa Devo fare in modo che Entrino Ma poi non tornino più E come potete capire Sarà Un casino Allora prendiamo Questo tappetino Lo mettiamo di qui Prima cosa Così è più comodo Per noi Abbattiamo Una di queste Cose qua E lasciamo che piano piano Inizino ad andare Anzi no Anzi no Blocca tutto Blocca 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 Quante sono Devo contarle Non ci credo Devo contarle Sono più o meno Una trentina Soprattutto perché Non vedo quelle piccoline Che devono crescere Se crescono Dovremmo riuscire Ad arrivare a un numero esatto Che più o meno È Due pecore Ogni blocco Di terra Camminabile Vuol dire che Sono dieci Sono venti Sono quaranta Pecore Come dicevo All'inizio Del tutorial Quindi speriamo Bene Io Aspetterò Che queste pecore Crescano E le inserirò All'interno Della struttura Spero che tutto Funzioni alla grande Ma lo scopriremo Nel prossimo episodio Io vi ringrazio Tantissimo Voi ragione Lasciate un mi piace Se avete visto questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto Siamo su Twitter Instagram Facebook E ovunque voi Vogliate Io vi saluto Ciao trutututti